Non siamo noi? La famiglia! Befe Ragnè! Hey! Come state? Nel video di oggi, dopo la bellissima cena, Chiara e Fedez ci concedono un po' di discoteca sulla neve. Qui, Chiara, si provviste a DJ per una sera. Intanto, continua la vacanza sulle Dolomiti per Edo, il cucinetto di Leo e Vitto. Vi lascio il video. Buona visione! Mmm, che buone queste lasagne! Sono buone? Ma si fa così lo scivolo, Edo. Attento, attento! Cioè, vabbè, ma io sto là con i piedi, il rinforzo positivo, tutte quelle robe lì, basta, guardate, la resta è piena, cara. Ah, ma se che bello! Ciao Signori, datemi il segno di vita Mi chiedete Una mano al cielo per Graziano DJ Graziano della nebbia DJ Mi sta regalando la serata E le serate E le serate Se ti è piaciuto il video, lascia un like Ed iscriviti al canale Ciao